Denuncia da parte dell'Udu Teramo che sottoline alcuni termini appropriati utilizzati per descrivere la presenza di carne e di maiale nei piatti della mezza universitaria. Questo perché non è la prima volta che alcuni piatti presenti nel menù di giornata sono seguiti dalla scritta si musulmano, no musulmano o per musulmano, al fine di indicare la presenza di carne e di maiale nel piatto. Sappiamo bene che in un clima come questo si devono evitare queste cose perché portano a dei frantendimenti, a una percezione della realtà diversa di quella che è. Viviamo in un'università che ogni giorno prova ad essere presente sui temi dell'integrazione e allo stesso modo anche la mensa e la cooperativa che opera all'interno provano in tutti i modi ad essere vicini agli studenti di ogni etnia o di ogni confezione. Quello di ieri non è altro che uno scivolone, uno svarione che c'è stato, purtroppo non è la prima volta che accade ma si cercherà subito di porre rimedio. Siamo stati contattati immediatamente dalla cooperativa che si è scusata per quanto accaduto e allo stesso modo ha garantito che non ci sarà più un errore di questo tipo anche perché loro sono i primi che si impegnano nel cercare di essere una mensa aperta, solidale, che riesca ad essere davvero a misura di studente. Siamo fiduciosi nel fatto che ciò non avverrà più, che non sarà più presente nessuna scritta di quel tipo sul menù e abbiamo avuto già garanzie al riguardo. Gli studenti che si sono rivolti a noi purtroppo erano rimasti toccati da quella scritta, toccati da quel epiteto, come se si volesse in un certo modo etichettare quello che era quel determinato piatto. Sappiamo bene invece che da parte di chi ha scritto quel menù c'è l'assoluta buona fede ma solamente non può essere accettabile una cosa del genere, non può essere accettabile che ci ritroviamo una scritta del genere, che chi legge solo quel menù, chi non vive l'università, chi magari si trova solo quel giorno in mensa ha una percezione totalmente opposta di quella che è la realtà.